A settembre ripartono i corsi di batteria presso il Drum Studio a Molfetta. I corsi sono tenuti dal maestro Rino Corrieri. Lo studio è dotato di tutti i comfort e le lezioni sono svolte in ambiente piacevole e confortevole, perfettamente insonorizzato per tutte le esigenze e le necessità di batteristi, appassionati, curiosi o anche per chi desidera continuare ad approfondire un percorso musicale precedentemente avviato. Strumenti musicali e attrezzature professionali e di altissima qualità. Il Drum Studio è a Molfetta. Inviare i casoli numero 7. Per informazioni visita la pagina Facebook Drum Studio Molfetta o chiama il numero 347 86 42 021. In collaborazione con UFIT FACUS.